Che cosa ci dice il mercato delle opzioni su Ethereum? Facciamo una veloce rassegna sull'outlook di mercato di Ethereum perché sta diventando particolarmente interessante soprattutto in relazione a quello che potrebbe esprimere nei prossimi mesi. Partiamo innanzitutto dando uno sguardo all'andamento delle averaging transaction fee su la blockchain di Ethereum che come potete vedere sono abbastanza volatili anche prendendo solamente il mese di luglio ed agosto si può andare come potete vedere a seconda della congestione della rete dai 2.5 dollari fino agli oltre 8 dollari quindi c'è una variabilità significativa. Il Ethereum è cambiato drasticamente in queste ultime settimane per l'implementazione del famoso hard fork London che ha modificato la tarifazione delle transazioni su Ethereum lo scopo è quello di implementare, avere una roadmap che porterà ad avere Ethereum con un protocollo di validazione interamente proof of stake e questo presuppone ancora un tempo abbastanza ampio innanzi a noi tuttavia la roadmap appare ben avviata. Sono numerosi gli investitori istituzionali che ormai ritengono come Ethereum nei prossimi anni possa arrivare a sottrarre la leadership della capitalizzazione complessiva a Bitcoin con anche altri competitor come ad esempio Cardano o Solana per il loro proprio potenziale di mass adoption che lo stiamo oltretutto percependo su Solana e Cardano proprio in queste ultime settimane. Il meccanismo che porterà a modificare e ha già modificato parzialmente tutta la blockchain di Ethereum si basa sui pool di staking vale a dire il fatto di mettere in a reddito bloccare letteralmente dei quantitativi di Ethereum che servono per dar vita al processo cosiddetto deflazionistico. Che cosa significa? Che nel medio e lungo termine si potrebbe ipotizzare che Ethereum si trasforma letteralmente in una blockchain interamente deflazionistica vale a dire che il numero di Ethereum che vengono coniati per i rewards sarà ad ogni modo inferiore agli Ethereum che saranno posti in burning per i processi di implementazione del proof of stake. Questo significa che man mano che passerà il tempo ci saranno sempre più Ethereum posti in staking e sempre meno disponibili in circolazione. Questa è una delle ragioni per le quali tantissimi tantissimo numero una consistente parte di investitori istituzionali sta puntando molto su Ethereum credendo che in relazione a questa caratteristica peculiare possa portare il prezzo letteralmente a vedere nuovi massimi che per adesso risultano addirittura impensabili anche come logiche di mercato soprattutto in considerazione di quello che abbiamo appena menzionato vale a dire il processo deflattivo per cui ogni giorno ci saranno sempre meno Ethereum disponibili proprio per tutte le implementazioni che verranno effettuate per arrivare alla roadmap conclusiva di Ethereum 2.0. Ora, che cosa possiamo desumere noi sia retail che attori istituzionali in relazione a questo? Beh, se prendiamo ad esempio l'andamento di mercato di Ethereum in questi ultimi mesi al di là del massimo storico che abbiamo visto a metà maggio di 4200 dollari che poi al pari di tanti altri cryptoasset ha visto una significativa ridimensionamento di tutta la sua price action scopriamo che il prezzo in questo momento di mercato sta viaggiando, veleggiando su un livello, un ritracciamento di fibonacci che è abbastanza importante nel momento in cui andiamo a prendere il massimo storico di maggio e i minimi relativi che si sono venuti a creare durante la pausa estiva oltretutto questa struttura tecnica per adesso sta ingabbiando l'andamento di prezzo e come potete vedere abbiamo una fase di congestione proprio qui intorno a 3200 dollari le medie mobili sono abbondantemente sotto all'andamento del prezzo e questo farebbe presupporre a una effettiva capacità di Ethereum di raggiungere nuovi massimi storici come possiamo avere un'ulteriore conferma di questa disamina o di questa effettiva potenzialità come abbiamo detto prima andando ad analizzare anche in questo caso i posizionamenti che hanno gli attori istituzionali sulle opzioni ora come potete vedere prendendo anche una scadenza tutto sommato non molto distante metà settembre vediamo che c'è un rapporto sui volumi col put che è veramente enorme ormai sfiora i 5 per e la stessa cosa la possiamo dire sull'open interest guardate gli strike gli strike sono tranquillamente a 3.700-4.500 e quelli attuali sostanzialmente sono già at the money quindi si potrebbe già andare a portare a casa ad esempio un risultato positivo qualora ci fosse stato un operatore istituzionale che si fosse posizionato ipotizzando un prezzo superiore ai 3.100-3.200 dollari questo è molto interessante vi faccio notare anche come sono inesistenti quasi il peso delle put che sono le candele rosse rapportate a il peso invece che hanno alle call questo fa comprendere che solo nel breve termine quindi da qui a metà settembre potremmo assistere ad un significativo impulso rialzista su Ethereum proprio con la logica di riportarlo a 4.200 dollari poi da lì si apriranno le danze si caprirà se ci sarà effettivamente una forte spinta propulsiva per andare ad incontrare nuovi massimi se andiamo a prendere in considerazione proprio tutta la cosetta narrativa del proof of stake di Ethereum che dovrebbe implementare un processo deflattivo nel tempo è chiaro che Ethereum potrebbe perfettamente essere in grado di scalzare la leadership di Bitcoin è per questo motivo che tanti crypto asset e tanti investitori istituzionali hanno iniziato una lenta fase di swap cioè stanno sovrappesando Ethereum e sottopesando Bitcoin perché per Bitcoin ad esempio la maggior parte dei commentatori ritiene che ormai la fase di 50.000 50.000 dollari possa rappresentare il livello su cui si assesterà il mercato per tutta la fase del 2021 ovviamente queste sono previsioni da parte di attori istituzionali che hanno sempre le medesime finalità quelle di remunerare il capitale a parità di rischio con la più alta intensità possibile quindi se c'è per i loro uffici studi per le dinamiche di mercato per il cambio di scenario che sta caratterizzando la criptosfera una cripto di elevata capitalizzazione che potrebbe in poco tempo performare sulla logica del 3x o 4x rispetto ad un'altra che magari mi fa un 2x o cioè un 2x ecco che l'investitore non è che esclude automaticamente la seconda ma diminuisce il peso strategico di quella probabilmente meno prestante meno performante per spostarsi sulla seconda non dimentichiamoci mai che poi vale ancora la regola del ciclo post halving quindi se questa dinamica di mercato dovesse essere confermata noi abbiamo grosso modo ancora 6 mesi innanzi a noi dopodiché questa fase propulsiva che è iniziata lo scorso anno dovrebbe terminare a restarsi per poi assistere alla tipica fase di ridimensionamento delle quotazioni sempre se questo si avverrà vi lascio in descrizione come sempre gli approfondimenti su quelli che sono le aspettative di mercato proprio in relazione a questo processo deflazionistico degli attori istituzionali non dimenticatevi mercoledì alle 11.30 facciamo una super live sui comparti finanziari che investono con ottica GMI, Global Mutual Asset e potete stare sicuri che al loro interno alcuni hanno anche delle posizioni strategiche in criptovalute proprio ricorrendo a strumenti a replica indiretta GMI, Global Mutual Asset